con Andrea Nicolai nel dopogara di Fiorentina a Domodossola Andrea una partita incanalata bene sui mondi binari già dal secondo quarto, una piccola defaianza nel terzo ma poi una vittoria doveva essere e vittoria è stata Sì, siamo molto soddisfatti perché temevamo molto questa partita con una squadra che deve cercare punti salvezza in ogni partita quindi gioca un po' anche con la forza e la disperazione noi abbiamo controllato bene le loro fonti di gioco sono stati molto bravi su quello che sarà preparato siamo contenti perché con questa vittoria il nostro record da quando sono arrivato siamo a 9 su 14 con tutto quello che ci è successo infortuni, squalifiche, varie cose è una cosa molto... è dispessore come record vittorie sconfitte ora c'è da continuare, domenica abbiamo una partita molto molto difficile a San Mignato che però vogliamo interpretare nel migliore dei modi perché potrebbe valere doppio nell'ottica della nostra corsa playoff Una squadra che quando gira Davide Poltroneri è una squadra vincente è un giocatore da accullare Davide è uno dei migliori giocatori del campionato non è sempre facile per lui eccellere perché è braccato le difese spesso raddoppiato, dobbiamo farlo giocare tanto perché le alternative non sono numerosissime quindi non è facile per lui però è un giocatore importante che ci dà doppia dimensione perché oltre ad essere un grande realizzatore è anche un ottimo passatore quindi riesce a far canestri facili ai compagni Sappiamo che dobbiamo completare la squadra soprattutto dal punto di vista offensivo e speriamo molto nel recupero di Longobardi che sarebbe un giocatore che in attacco ci darebbe un'alternativa importante